Siamo qui, per presentare la nuova collezione. Ciao bimè, e allora, e allora, e allora, io non posso dire niente, perché se dico qualcosa loro subito affagano qualcosa. Ieri ho detto che ci saremmo viste oggi, poi ho avuto il pallino, oggi o giovedì, mercoledì o giovedì? Effettivamente, tu a me avevi detto giovedì, perché avevi forse un intoppo. Esatto, e poi mi dico, no mamma, ti aspettano tutte, quindi oggi, quindi vallì, dai. Allora, che dite? Diova? Se non dicono che, mi sono ascoltata anche nel video precedente, ho sempre. Questa abitudine? Sì. Cate ha fatto bene, dite? Sì, ha fatto benissimo. Posso mettere di qui, ragazze? Bus così, bus così, io oggi sarò quella che... A parte gli scherzi, ragazze, partiamo... Cominciamo da te, esatto. E poi arriviamo da una mezz'ora, che abbiamo riso come delle matte. Guardala, guardala se perde il vizio, Cate. Mamma mia. Guardala, guardala. Finirà di fare la maggiorette? La maggiorette, la iscriviamo, la iscriviamo. Sono ancora un progetto a forno. Si sfama un po' prima che la iscrivete. Tu che devi provare i carri, vanni! Buongiorno. Hola. Hola, io riprendo te. Sono venuta qui. Ma va? Innanzitutto per fare le approvisate con loro, perché veramente è stata una cosa fantastica, ma per farvi vedere... Lo diciamo. Sì, dai. Lo diciamo. Aspetta che ti faccio rientrare. Oggi, io non so se sono i 15 giorni di vacanza. Tu ne fatti un po' di più, né Ciccia? Io sempre di più e io lavoro di più. Ah, 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 ah. Io produco, abbia che fare con i laboratori di stare in vena. Per stare sui tacchi. Oggi, non vi dico cosa sembriamo. E' già presente? Cos'era? Il fenicottero. Il fenicottero. Ecco, lui sì che ci sta sulle gambe. Noi proprio oggi. Cioè, camminiamo da... Così. No, è vero, eh. Cioè, io è la prima volta che metto il tacco da marzo. Nuovo ballo? Petalina! Tanti auguri! Nel dire ballo mi è venuta in mente. Buon onomastico! Buon onomastico! Maggiorno io a tutte noi! Chissà, magari sarà l'onomastico di tantissime altre. Ma siccome lei... Quindi, a tutte le... Quindi, che cosa? Rosa? Rosa. Ah, sì, che bello. Già, questo nome è stupendo. Dai, per la tua oggetta, vai. Cambio inquadratura. Eccoci qua. Uno, due, tre... Vediamo quanti secondi... Fasta un attimo. Questo abito... Ecco, ti prendiamo. Sì, va. Allora, ragazze, prima vado io e poi così vado a cambiarmi e poi ti arrangi. Sì, tranquilla. Lo vedete? Arriva dalla mia cabina al maggio, sì o no? Lo vedete? Vi piace? Lo gradite? Tessuto meraviglioso. Grazie. Quindi qui dopo lo spieghi tu. Stupendo, stupendo. È esattamente il tessuto che volevo. Non è lo stesso jersey delle nostre maglie. È più compatto. Assolutamente. Vedete che ha questa specie di... Ragazze. È la consistenza. Sì, sì. Il filato e tutto quanto. Dopo lo spieghiamo. Chapeau. Meglio. Grazie. Perché 69 euro questo abito. Dite 69 euro, non ho sbagliato. Sì, sì. 69 euro questo abito, lo volete vedere in tutta la sua bellezza. Quindi qui snellisce, cioè... Qui nasconde. Togliamo, guardate, adesso il nostro gioello per la vita. Non posso non farvelo vedere a 299 euro. Se poi volete e volete vedere l'abito da solo, me lo dite. Oggi siamo qui per voi. Ok? Dopo io vado a cambiarmi così ti lascio tutta la scena. Ma come faccio a non evidenziare questo abito? Scherzi a parte adesso. Stiamo davvero scherzando. Ragazze, torniamo serie, 69 euro questo abito. Ma più serie ancora, come? Fanno male i piedi? Esisti? Se no li torni. Non li piedi, la caviglia. E a me il girocchio. È del girocchio, cioè... Ma anche i piedi, perché ragazze... È una mia via, ragazze. Cioè, io non so, quanti anni hai tu? Io 57. Ecco, io ne ho 60. E sono suonati da qualche mese. Dindon. Dindon, dindon. Si sentono, ragazze, alla fine, non si vedono. Ed è una cosa più importante. Ma i miei piedi forse ne risentono. Ok? Quindi, cosa stavo dicendo? Devi sapere di 40, alla... 50, 4. Questo abito. Trovate a voi qualcuno che vi dà questa forchetta di taglia? 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 50, 4. Questo solo nero. Perché mi dicevi che non ti piacevano i colori. No. Il fornitore di questo stupendo tessuto, perché è nuovo, un fornitore nuovo, è un jersey nuovissimo, più compatto, ma proprio per gli abiti. Perché comunque fa una forma completamente diversa rispetto al jersey delle magliette. Brava. Non aveva una cartella colori che mi ha entusiasmato. Quindi ho detto, poniamo cauti, proviamo il nero. E così abbiamo fatto. Abbiamo provato il nero, ma per la primavera, poi, avendo provato questo modellino, e avendo provato effettivamente il tessuto, per la primavera, saremo ok. Distrubatrice seriale. Per la primavera, così? Sì. Lo so, volevo dire una frase. Esatto, io mi prenoto. Perché è una casa infazzista. Esatto. Giusto, Cazzo? Volevo solo segnalare che c'è vostro figlio in diretta. Oh, il mio bimbo è vostro. Vostro, hai visto? Ma che bello, lo ha trovato. Eh, lo sa. Sai che a un certo punto, quando tu apri i social, non so perché, mi sei presentato, la foto di Ale, forse per, diventa amico di, ma è giovanino su quelle foto lì? Sì, sì, non ha ancora cambiato. Quando era giovane, il mio bimbo da... Penso 5-6 anni fa, ma piccolo piccolo. No, no. Perché su WhatsApp ha detto... Alto, magrino, ma forse anche avrei detto 10, no, 10 no, perché è giovane. Cioè, come se adesso non fosse alto e magrino, come permettete. Quanti anni aveva? 27. Eh, allora 27, avrà avuto 20 anni. Sì, avrà avuto 20 anni. Ciao Ale. Mim, io vi lascio, così lei spiega. Sì. Vado a cambiarmi. Sì. Perché oggi sarà una cosa così. Vai. Eh, quindi dalla 40... Oggi la bastono. Dalla 40 alla 54. Muta. Nel frattempo vi leggo un messaggio della Petalina. Ah, sì, arrivo. Ma eccola di nuovo. Cioè, niente. C'è un messaggio della Petalina. C'è un messaggio della Petalina. Sentivi. Buongiorno, me dolce family. Grazie per il pensiero. Vi abbraccio e mi godo la vostra diretta. Un saluto alla nostra Antonella. Cate con tutti i cuoricini rossi. Ciao. Oggi siamo mattarelle, ve lo dico tutto. Sì, sì, sì. Ciao. Siamo partite un po' scariche. Poi in questa mezz'ora ci siamo mega caricati. Arrivederci. Io dico che sono loro che mi alimentano. E quindi adesso... Bene. Energia. Che taglia porti dal vestito, Gabri? C'è lì che ti s'illuminano gli occhi. C'è qua l'azzurro lì che esce dalle pupille. Che taglia hai su, tu? Io la 42. Patrizia 42, Gabri. Parte dalla 40 alla 54. Bye, bye. Bene, ora ci concentriamo sul primo capo della nuova collezione. In questo caso ho indossato il viola. Questo è il tessuto crepe che conoscete. Ed è il tessuto elasticizzato che noi utilizziamo sempre per pantaloni, giacche, taglio e tutto. Ok, è una giacca lunga. Quindi vi permette di coprire le parti che magari non vi piacciono mettere in mostra. E abbastanza asciutta come vestibilità. Io ho indossato come sempre il 42. Però avessi messo la 44 mi sarebbe stata bene lo stesso. Perché sarebbe solamente un po' più morbida di braccia e di corpo e quant'altro. Se non mi vedete tanto è perché perdo l'equilibrio per le scarpe. Ok. Sotto abbiamo il pantalone a sigaretta. Abbastanza aderente. Calcolate che io ho comunque una 42 piena. Non sono magrissima. Ok. In fondo ha l'amaro col bottoncino. Vedete. In questo caso a me sta sopra la caviglia. Calcolate che è un'altezza di 1,70. È nato già un po' cortino. Perché essendo un pantalone settembrino viene portato ancora con i décolleté piuttosto che con lo stivaletto eccetera. Quindi sta bene leggermente più corto. Ovviamente in base poi alla vostra altezza. In questo caso portando una scarpa con il laccetto vedete diventa anche giusto. Cosa abbiamo opinato sotto? Tell me the price please. Ok. Pantalone 59 euro. Vi faccio vedere anche la giacca che ha l'alamaro sul polso. Vedete il bottoncino. Canna di fucile. L'alamaro che è quel dettaglio che rende un po' particolare la giacca. Volevo farvi vedere che abbiamo le spalline anche foderate dello stesso tessuto quest'anno. E quindi la cosa in più per voi. Ok. E la giacca vedete la lunghezza è dietro è tutta chiusa. E il rever è iniziato in questa stagione a dare ad essere di tetenza il rever un po' stondato. Sapete che io faccio più la parte tecnica. Stavo dicendo ma come sei tecnica. Mamma mia. Sono tecnica il mio lavoro. È quello che le nostre amiche vogliono. Sì perché poi mi vedete poco per cui. Il tessuto è sempre crepe. Il tessuto l'ho già detto è sempre il nostro crepe famoso che lavate e non stirate. Ed è una meraviglia. Cosa fantastica. È come avere un cardigan. Sono tremenda ti giuro. Sono tremenda. Io le sento quello è il problema. Non è una volta prossima. Arrivo con la bacchetta. Io non mi presento neanche. Vedi tu. Se dovessi vedere la carta. Niente lasciamo stare. Perché sono seria vedi. Ok. Aspetta un secondino solo. Finisco la camicia. Se no le incasiniamo. Questa è la camicia però. Vedete che hanno data davanti. Ma non è cortina. Guardate che arriva. Arriva comunque a nascondere quello che è un po' la pancetta. E la comodità. La comodità. Vedete che sta sotto anche. Non cantare. La manica della giacca. Ma la bastone davvero oggi. Che bella che è quella camicia lì. Ma che bella sarà poi. Vi faccio vedere le altre fantasie. Adesso diamole spazio. Tanto se lo prende quindi. Non è un problema. Non diamole. Diamo spazio e fiato alle trombe. Guardate al finicottero. Quello che è del finicottero. Sembra quello di una volta. Sappilo. Non prendi il mio braccio. Così almeno. Sei presente. Guardala. Riusciamo a girare. Cos'è che viene. Metti la freccia. Brava mia tattina. Uè ragazza. È come se è l'asta. Dai allora. Dai. Anche altri difetti sappilo. Dite qualcosa. Cioè dite qualcosa. E le sorprese non sono. E sapete che io con gli abiti. Sono per voi eh. Ecco. Ma sì no. Bisogna dire. Anche per me l'hai fatto. Si sono obbligate a vicenda. Devo dire che qui. Questo è l'abito che indossavo ieri con la fantasia. A tutta l'arricciatura. Diciamo tattina che non hai messo il body sotto. Perché se mettevamo il body sotto. Se avessimo saputo non ci saremmo presentate. Guardate me. Guardate me. Saremmo date per malate. Guardate me. Scusate. Questa roba qui non mi passa. Sarebbe più. Aiuta. Sì io sono proprio una mutandona. Una mutandona. Una mutandona. Le nostre cramelline d'8 euro. Quanto sono belle. E in questo abito. Dai Simona. Dile verità. Allora. Come te lo senti in questo abito? Spieghiamo un po'. Bene. Bene. Non me lo sento. Ecco. E questa è tanta roba. Cioè sentirsi. Non vestite con un abito così bello e così completo. A soli. Dilo tu? Sì. Sì. Sessantanove euro. Ecco. Ma che numerino carino. Incaccate. Sì. Vabbè. Sette donne. Dai. Non c'è anche Ale. Vabbè. Anche Ale. Anche Ale. Anche Ale. È cresciuto a 27 anni. Oggi. Guardate che la CPS qui inizia la nuova correzione. Inizia la stagione. Ma qui stiamo facendo tanta roba. Sono un tocchiare. Si sta vivendo come un matto. Mi mamma che sono queste. Abbiamo partito. Siamo iniziati in sordina. Poi siamo andati a berci. E cosa che abbiamo mangiato? Bresaola. 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 Sì. Esatto. Secondo me è stato quello. E siamo venute via con un'idea tutta nostra. No? Quindi non c'è lo stendino. Noi che facciamo le modelle. Lei che si è prestata per l'occasione. Diciamo così. Prestata per l'occasione. Ora mi presto io. Mi presto, mi presto, mi presto. Dov'è quella roba che... Bim. Dov'è quella roba? Dov'è il pezzo sopra? È di lì. Ma è da il pezzo sopra. Ma io per i bavini qua. Ma cosa posso fare? Intanto mi metto sotto l'ala della mia bambina. Che pazienza. E ti appoggi al morbido se ti piacerà? Eh, mi piace vincere. Come la mia Ginny. Mi piace vincere. Mi piace vincere. Mi piace vincere. Mi piace vincere facile. Perché la sua... Ah, ecco, brava. Fanno tu allora un attimo. Ti sei già preparata? Sì. Perché la Ginny cosa fa? Mi piace con le morbidezze. Sì, si appoglie. Si accoccole. Sette piani di morbidezza. Fai un giro. No, mamma, giro. È bellissimo. Sei stupenda, Simo. Scusa, voglio dire. Vero o no? Abbiamo fatto bene ad insistere. Perché non voleva. E invece alla fine, guarda quanto sei bella. Arriva l'ottavo piano di morbidezza. Adesso mi sposto così. Guardate che coppia formidabile. Adesso mi sposto io perché voglio la scena. Voglio la scena. Guardate che belle. Ma qua, allora, ragazze, siete... Scusate. No, ma oggi non va bene però. Scusate, mi sto curando da settimana ma non riesco a essere... No, sapete una cosa? Sì, amore. Siete stupende. Così dicono, ma? No, così dicono. Sì? Allora, Simona, Simona. Allora, vogliamo sapere. Torniamo serie. Hai quanto la nonna? 130, ragazze, tutto di bellezza. Oh, wow. E sei bella, sei anche abbronzatina. Sei la nostra bimba. Io, ecco, siccome devo far uscire la bambina che è in me... Aiuto. ...che continuano a dirmelo... Tu sei, esatto, come si chiama? Anna dei capelli. Anna? Io ho conosciuto come Anna dei capelli. So che le amate. E viva le curve! Vi scrivono! E viva le morbidose! E viva le morbidose! Che duo meraviglioso! Cioè, hai visto? Leggi, leggi là sotto. Sì, no, anche ci vedo molto, Gabri. Lo dico sinceramente. Non pretendere troppo. E dai, fatevi vedere più spesso. Davvero? Allora. A che coppia? Siete meravigliose, ragazze. Vi vogliono le nostre amiche. La capite o no? No, perché magari qualcuno pensano che io voglio davvero prevaricare. Oggi, nel vedere che Simona stava scherzando con Kate. Kate stava scherzando con Simona perché l'abbiamo un po' obbligata. Kate, hai anche i capelli bellissimi. Te li sei appena tolti da quella codina che ti fai sempre. E sei bellissima. La nostra Kate indossa. Dai, fatevi una sfilatina. Esatto. Dai. Occhio in tanti. Per me non ci prendono sul serio oggi. No, oggi no. Ma oggi se c'è qualcuno che ha qualche paturnia, se la fa passare perché... Oh, brava. Brava. Questo è mio, è sapido. C'è ancora blu, ragazze. Ah, è tuo perché lo prendi, vero? E ti ho detto. E ti ho detto. Che belle le veline. Siete favolose. Allora, questo abito 59 euro. Cioè io sono stufa di far vedere le cose, magari non potendole far vedere indossate. Ah, 49 perché ha scontato. Bene. E ha pure scontato questo abito. Bene, perfetto. Allora, la bresciana. A 49 euro. Ok, bene. Indossa la triple XL, forse c'è solo blu perché nero se l'è cuccato lei. Eh, ragazze, questo è. Ve lo sto facendo vedere, io credo da due o tre mesi. Adesso, quando vi dico la balza che non è balza, la balza che appiattisce, la balza che non è un volant, lo vedete indosso. Kate, hai un punto vita che di solito non ti vedo. Mettiti dritta di fronte a noi. Guardatela quanto è bellina la nostra Kate. Eh, morbida al punto giusto. Sei bellissima. E poi in mano hai che cosa? La nostra giacca. Nuovi arrivi. 99 euro. Facciamo vedere la lunghezza giusto tanto per in crepe. Quindi fai vedere che è tutta bella. È il cartellino. Tutta bella elasticizzata. Guarda che mi avvicino Kate. Ho i capelli lunghi tanto, copro tutto. Sì, stai benissimo, però giusto per far vedere. Brava nella ripresa. Non è riuscito a... Mettiti di profilo. Perché lei, perché come vi ripeto... Ha problemi, ah sì. I nostri problemi. E ragazze, è lì da vedere. È lì da vedere, è lì da vedere. Vuoi indossare una giacca anche tu, Simona? Te la do... Sai che colore te la do? Io tremo Kate, devi farlo tu. Te la do fucsia. A che gnocca? A che c'è un rossetto fucsia. E poi che bei capelli hai. Ragazzi, allora... Indossa un abito da 69 euro appena tagliato, appena arrivato, appena tutto. Questa è elasticizzata, ve la mettete come volete. Ha il suo pantalone. 59 euro il pantalone, 99 euro la giacca, 69 euro l'abito. 49 euro l'abito, 99 euro la giacca. Non so più che cosa dirvi. Mi ci metto anch'io. Ah, ma certo. Non l'avevo ancora fatto vedere nulla. Si comprensano tutti. Aspetta. Vieni pure. Guardate cosa. Che trio. Non mi ricordavo di essermi cambiata. Allora, cosa vogliamo dire del nostro calzone? Meraviglioso. Riesce a far vedere il verde e con il rombo meraviglioso. Le scarpe sono storiche, quindi vanno sempre bene. Non sono in vendita. No, purtroppo. Guardate qui lo spacchetto. Quindi devo dire che questo calzone è elastico. Io indosso una 44, potrei metterla 42. Ho voluto indossarlo per vedere come calzava. Adesso vi facciamo vedere il nostro, cos'è questo. Ormai il nostro cavallo di battaglia, questa, che l'abbiamo fatta in due fantasie senza manica. La nostra bellissima giacca con cappuccio, che lo possiamo vedere. È un micro cappuccio in realtà, è proprio una cosa piccola per fare un po' movimento. Poi abbiamo definito, che abbiamo definito come non la sbragata, ma quella giacca pelpa. Giacca cardiga. Perché alla fine... E ti sta bene questo colore, Simo? Io utilizzo sempre e magari passo per essere anche quella poco raffinata. Ma non mi interessa. Beh, quello che interessa è di darvi il... Farvi capire esattamente che cosa intendo. Quanto è una sbragata, l'avete avuto, sapete cosa vuol dire? Questa sbragata vuol dire... Una cosa pratica. Pratica, in forma, vedete, manica su, manica giù, mettetela come volete. E adesso la tolgo pure. Cos'avete? Bene, bene, bene. Ci osserviamo. Belle, belle. Siamo le mie tatine. Quindi questa... Vediamola pure. Vedi il verde? Può servire anche. Col verde? Abbiamo creato un elfo. Certo. L'elfo curvi? Che capisci? Non mi puoi capire. Cioè, ragazzi? Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. No, no, oggi si divertono sicuro. La grandezza del cappuccio voleva farvi vedere. Un po' a modo suo, dai. Bellissimo proprio, è bellissimo. Immagino, bella. Sarai, facciamo la parità delle parità. Va bene, ragazze. Ho anche la Gabriele. Quando vi dico la giacca tutto fare, che dite? Possiamo le farle portare a bianco? Adesso ho un palto da qui. Imbarchiamo. Ci vuole il camice bianco. No, no. Occhio a ginocchio, ragazze. Se fai la bulla, fai la bulla. Dopo vedi che ridere, dopo gli fa male e mette il ghiaccio. Le giacche tutto fare di Gabriele Sanney di Brescia. A 79 euro. Sai che? 69 euro. 69 euro questa meravigliosa, stranica galattica. Qui si apre. Possiamo vedere anche scesa. Sì, si può portare anche scesa, anzi. Qui al puntino, la portiamo scesa. Quindi, ragazze, decidete voi. Sono una 42. Una, credo, 44 il giacca l'ho presa così a caso. Una 44 il pantalone mi andrebbe bene. Anche meno fatto per la lunghezza, per farvi vedere. Anche la 42, perché è quel tessuto. Ecco, questo che tessuto è? Scusa, si stanno chiedendo se abbiamo bevuto. No, no, nulla. Proprio non abbiamo bevuto nulla. Due naturali. Ci siamo caricate da sole, l'ultima mezz'oretta e niente. Eh sì, perché sta continuando così. Siamo felici di questa... Ci sono caricate quando io e lei abbiamo... Deciso, esatto. ...ha fatto questa cosa. E vi trovate per caso a disagio? Direi troppi di no. Come sì, Kate? Vi essi sinceri nella vita. Occuperò tre quarti dello schermo. Ma smettila, ragazze, ma l'avete vista? Stupende. Prossimamente con un pezzo di tacco in più, la nostra Kate. Sì, sì, e c'erano di là. Ma siccome stiamo lavorando anche su di noi... Certo, perché facciamo fatica, sì, sì. Questo è un miracolo, eh. Sappiatelo che questo è un miracolo. Non è con se le scarpe che l'abito. Non è vero. Mi conosco. Ah, sì. Però sta molto bene, sì. Allora, ti conosco, Massimo. Una cosa puoi dire. Considerando che le vestite sportive non eri... Se tu mettessi il nostro body a 43 euro, tu saresti... Fai così. Ecco. Così. Ora chi è che va a riprendere la nostra? Io. Produce. Mi è che è più veloce senza tacchi. Venga. La esce di scena, io vi faccio rileggere. 69, 69 e 79. E dopo prendiamo questa, eh. Adesso, ecco, perché... Faccio vedere questa camicia. Dateci due secondi. Mi vuoi parlare il colore, perché è una mia tenera. Sì, adesso la facciamo... No, no, non è bianca e nera. Intanto vi faccio vedere questa, che è come la camicia che indossavo io prima, ma in un'altra fantasia. Ora arriva lei. Io sono pronta. La nostra mitica. Mi ha in testo lacrimando da ridere. Va bene. L'importante è quello, ragazze, divertitevi. E questa è la camicia che indossavo prima, nell'altra fantasia. Io la vedo benissimo il colore. È proprio uguale al fantasia. Esatto. In alcune foto, in alcune riprese, a noi la dava bianca e nera, ma non è bianca e nera, è bianca e viola. È molto particolare questa stampa, perché ha i baci. Alle labbra per mandarvi i baci. Che servono sempre. Elastichino dietro. Quindi per niente stretta. E il fiocco, volendo, io ho fatto proprio il fiocchettino. Uno la può annodare e l'altra la può portare proprio così. Portata così. Come volete. Polso largo, anche se arricciato e con polsino proprio senza elastico, ma con bottone. Ma comunque è molto comodo. Proprio ci passano i due o tre centimetri. Questo è il tessuto che voi già conoscete. Quello che lavate è proprio non stirate. Quello che appendete la sera è che non dovete assolutamente più toccarla. Sia che la mettiate il giorno dopo, sia che la rimettete nell'armadio per abbinarla a qualcos'altro. È molto interessante appunto che ho inquadrato prima questa fantasia che va abbinata ai blu, ai panna e a tutte le altre tinte che poi troverete durante la stagione. I capi che vi stiamo facendo vedere sono i primi arrivati, ma ovvio che ce ne saranno altri. Ma così avevamo voglia di presentarveli proprio come primo arrivo tutte insieme. Pensando a voi. A voi amiche che ci seguite sempre, che siete state due settimane senza vederci. Vabbè io vengo poco perché appunto ho tutta la produzione da seguire. Per chi non mi conoscesse, posso dirlo Cate? Certo. Sono bella e produttrice di quasi tutti i capi che vedete qui da Gabriese, il famoso Made in Brescia. Insieme siamo una piccola famiglia, siamo io, mio figlio e mio marito e appunto seguiamo il mondo della moda. In questo caso abbiamo questa collaborazione con Gabriese che oggi mi ha fatto divertire un sacco. Posso dirlo proprio serenamente. Ti aspettavano anche le nostre amiche. Sì, me l'hai detto. Anzi, intanto che lei è quasi pronta, guardandola da qui, saluto. Perché devo fare dei saluti Gabri. Saluto innanzitutto Simona, Maria Giovanna, Antonietta, ciao Antonietta, Nunzia, Laura e tante tante altre. Le abbraccio tutte insieme a voi perché siete davvero fantastiche. E ci tenevo a salutarvi perché ci seguite sempre. Adesso arriva Gabri con l'altro completo perché ci sono cinque colori in questo tailleur. dal viola al verde bosco, al nero, al blu, al laguna, al fucsia. Ma è un fucsia proprio improntato sul colore autunnale. Quindi cambiano le tonalità. Perché Mari dice uno, ah io ce l'ho già fucsia. Cambiano sempre le tonalità. Ad ogni stagione. Sto portando una cosa che mi sta chiedendo, Simona. Sì. Si cambia? Oh, bene. Sì, 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 ha detto che vuole far vedere una casacca, una... Ok. Con lo stesso tessuto voi trovate la giacca che ha indossato prima Gabri, quella col cappuccio. In quasi tutti i colori, non proprio tutti, tutti, ha il pantalone, in questo caso, ad esempio, la giacca col cappuccio viola non c'è, però ci sono altre 3-4 tonalità dove potete fare il completo con questo pantalone. Perché abbiamo tagliato dallo stesso... Comunque la manica di quella camicia lì è stravigliosa. E qui bisogna dire una cosa che prendendo questa qui che è la 54, considerate l'allungo. Certo. Vedete dove arriva lei, vedete che sono 10 centimetri, perché il tutto, e guarda quanto... Questa veste è anche una bella 56. Sì, considerate che sul punto cruciale rimarrà sempre morbida. Qual è il punto cruciale di noi donne? Questo, ragazzi. Io indosso il bengalina, che è un bengalina non di quelli super 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 estensibili, cioè è elasticizzato, però non è quella bengalina come le pinte. Perché lo senti molto costruito. È più compatto. Di questi pantaloni mai cate la misura in meno. Sì, ho visto. Più torto la misura in più. Non ho notato. Voi fidatevi, ma io ho più o meno quasi di tutto, eh. Si dai la taglia in più di questo. Fidatevi, ragazze, di quello che noi diciamo. Io sto indossando appositamente le cose per... Le stiamo provando anche noi perché... Vai, perché ha bisogno di una mano. Sto provando con voi e per voi gli articoli, perché così mi rendo conto. Sto lanciando appunto anche i consigli anche alle nostre ragazze, proprio perché sono stupendi. Si sentono divinamente bene. Ecco il pantalone che non si sente, ma questo si sente. Quindi quello che piace a voi perché mi chiedete tutte le taglie in meno. Ecco, le taglie in meno di questi non ve la mando, ok? Però cos'è questo color laguna? Cos'è? L'ho... Poi lo indosserò magari a completo. Io ho messo il bengalina. Questa è crepe e quindi vi dimostra che è una giacca jolly da mettere su tutto. Con l'altra fantasia, scusate se è poco. Oggi ne approfittiamo perché i capi indossati, come avete visto l'abito che indossava Kate, indossati sono tutti un'altra cosa. Se un abito come il suo a 59 euro magari passa inosservato, adesso è a 49. Scusi eh. Però quando l'abbiamo lanciato a guardare i colori o le cose, uno dice ma la balza. La balza, scusate, cosa serve? Serve a snellire. Copre la panza la balza. Copre la panza la balza. La mia. La panza, ce l'abbiamo tutte. Che poco che tanto. Questa me la copre anche il calcione. Trovo che questa fantasia non sia bella sia di più. Adesso andrò anche ad alzare i capelli perché è così. Che ne arrivo? Ma chi sei tu? Ma è un trucco o un barbatrucco? Un barbatrucco. Adesso si lancia. Adesso sono da sola. Aiuto. Adesso si lancia. Dai la manina alla tua mamma. Infatti dicevo non puoi fare tutto da sola senza coinvolgermi? Allora. Fai tutto da sola. Tu si indossi la camicia quella che dicevo ora. Che quindi vedete la lunghezza com'è diversa rispetto a quella che indossava. Hai il nostro calcione, quello con l'arriccio e devo dire che è meraviglioso. Tu forse hai messo il davanti dietro. No, no, no. Sì, il più possibile. Non sono la cate. No. Grazie mille. Sei picchietta giusta. Guardate che ragazze. Amori miei, sono amiche da 30 anni. Dio santo. Quindi la cate quella lei cosa ha contato? È ora di finirla. Questa la laccia anche. No, spieghiamolo bene. Scusate, era un vestito al contrario ma stava da Dio anche al contrario. Quello ci sono i tuoi. Allora beh. Quello è una fortuna. Che adesso mi capita di mettere un capo a rovescio va benissimo, porta fortuna. Comunque la nostra giacca ha. Adesso ti faccio un po' di gattino. Sapete che io quando ero piccola adesso racconto questa cosa. Ho capito che questo video non finirà mai oggi. Quando ero piccina e mi avvicinavo a mia mamma. Oh, non me lo dire. Tranquille, è come se non ci fossimo. Sì. Ho fatto gli auguri alla nostra tettalina. Hai visto che l'hai illuminata. E' un grande della mia mamma. Non mi stavo dimenticando. Ecco, non volevo farla piangere però. Vedi che però io la stavo ricordando malmente. Allora, quando mi avvicinavo a lei. Allora, lei era del 29. Quindi, facciamo un po' i conti. Siamo nel 23. Vabbè, adesso non arrivo neanche a fare i conti. Un po' i conti. Mi avvicinavo a lei e la cosa che lei iniziava subito a fare era questa. E vedi che non è venuto in vicino. Ho iniziato a fare i grattini a Simona. Dicendo che questa giacca costava. Mettiamoci dentro anche il lavoro. 99 euro. Sono direte, ma questa cosa sta facendo? Eh, ma le nostre amiche, questa grande famiglia, le nostre storiche, le nostre, le nostre. Ragazze, voi non sapete cosa facevano i miei genitori. Non sapete quando dovrò nuovamente apparire con la macchina da cucire di mia mamma. Perché è là che mi sembra che mi chiami. Non so chi di voi si ricorda queste cose. Sì, è caldo. Poi anche togliono. Mui calor. Comunque, ero partita dai grattini. Quindi, i grattini che mia mamma faceva a me. Lei, che mamma mi fa i grattini. Come il mio vicino, mi dice, mamma mi fa i grattini. Che belli sono i grattini su questa camicia. Manifesca che scivola dappertutto. È bellissimo, vero amore? Ecco. Questa qua è le ore. Ecco. Abbiamo trovato la maniera di mettere il video. Se non la facciamo, le idee, i grattini. E la Mati, come arrivo là, mi dà la gamba o mi dà la schiena e vuole i grattini. Vedremo, Ginni, cosa penserà. Al momento siamo tre generazioni diverse. Esatto. E tutte e tre amiamo i grattini. Mamma, anche auguri di buon compleanno. Mi stavo dimenticando. Ecco. Insomma. Cosa costa questa camicia? 79 euro. 79 euro. Facciamo vedere la manica stupenda. Il nostro pantalone scontato a 39 euro. E la nostra giacca, questo è Jersey, nostra giacca in crepe, a 99 euro. Io mi rimetto un attimo. Scusate, ragazze. Sì, scusate, ragazze, ma questa cosa davvero non era preparata e mi ha colto di... Non di sorpresa, grazie a Simo che me l'hai ricordato, ma oggi avrei fatto una gaffa imperdonabile. Ma forse il fatto di non stare benissimo, forse il fatto di essere tornata, di essere presissima. Scusami, mamma, non volevo. Allora, basta, tutto può, bimba. Cosa facciamo? C'è pronta la nostra Antonellina? Non dirmi niente, arrivo. Ho avuto un problema con la scarpa. Hai avuto un problema con la scarpa? Ti devo aiutare? No, no. No, hai fatto tutto. Bene, perfetto. Ma come sei bella. Ho indossato il bengalina, così vedo. Questo? Tu hai messo la? Io ho messo la 4. Io ho messo la 2. Eh, ma è bello... È bello asciutto, quindi se la volete più pomodino, lo insegnano. Allora, anche io posso mettere la 2, però, e secondo me, sapete che io dico sempre che non mi piacciono i canzoni. Sì, sì, se lo volete morbido, segnalatelo che vi danno la taglia. Io vi saluto. Ciao. Ciao. Sei bellissima. Basta per oggi? No, ma basta, mi muoci i piedi. Vai. Vado anch'io a cambiarmi? Cosa dici? Va bene, va bene. Che sta molto bene. Vero? Che sta bene il colore. Ma mi piace molto questo. Tu sei innamorato di questo top. Io... Mi piace questo top e mi piacciono tutte queste, un po' i colori, le fantasie e via dicendo. Ce n'è anche un'altra, ma quella è nella maglia. Sì, perché questo è senza maniche. E questo è il tessuto mano pesca. Sì, l'altra, sì. Quindi, bimba, tutto quello che state vedendo oggi, ok, dalla... 40 fino alla... 54. Lo sanno le nostre amiche perché ci seguono sempre. Bravissime. Ritornando a noi, questo è il viola del pantalone bengalina. Vi ricordo sempre che a me stanno un po' più corti per via della mia altezza. E la bengalina, comunque quella comoda che avete già conosciuto, questa è autunnale. Cosa vuol dire? Che la grammatura un attimino più pesante. Ovviamente la stagione è diversa. Stessi lavaggi, stesso tutto. L'unica cosa, se lo volete più comodo, segnalatelo. Vi daranno una taglia in più senza nessun problema. Io mi sono messa questa cintura che c'entra poco, ma non siamo molto assortite di accessori. Volevo farvela vedere con un viola. Ma soprattutto guardate la svasatura di questa che nasce come tunica, ok? Sia per la lunghezza che per la sua morbidezza. Ha questa goccia profonda molto bella. Con il bottoncino in tono che si apre ovviamente per facilitare a voi l'indosso. Chi la vuole portare cinturata, se la porta cinturata, anche con qualcosa di sottile, assolutamente ci sta bene. Chi invece la vuole morbida e la vuole portare lunga, coprende un po' tutto, lo può fare. Polso. In questo caso abbiamo utilizzato l'elastichino. Manichina è un pochino più corta rispetto all'altra camicia. Ma ragazzi, noi cerchiamo di differenziare i modelli dal corto al lungo, dal più a corpo, quello più morbido. Per accontentarvi un po' tutte. Chiaro che poi una va a ritrovare, a ricercare il suo stile. Questo lo sapete sicuramente. E parlando di questa tunica, è la nostra mista viscosa solita, che già conoscete. E la vedete. Nel senso che non si stropiccia neanche lavandola. E quindi anche questa da appendere e da far asciugare sulla duccia. E dice la Gabri? Lavare, non? Stirare. E' una cosa da? E' proprio così da imparare. Imparare. E questa di tunichetta la trovate anche nel bianco, un bellissimo bianco, e nel blu. Per le amanti del blu c'è ancora in questa stagione, il blu nel tailleur, e in questo caso blu e arancio. Guardate che meraviglia questo top. Io sono quella più carosa di tutte. Sei bella ancora abbronzata, Cincinino? Ancora? Caspita solo. Sei bella abbronzata. Sì, voglio dire. Cosa ridi? Sono tornata, sono tornata, sono tornata, bronchitata, voglio dire, almeno un po' abbronzata. Facciamo anche rima, ragazze, cosa dite voi? Bello. E' sempre bello il blu. Sì, lo trovo raffinato. Questo colore comunque è meraviglioso. Sì, bello. Molto bello. Io la porterei in linea così, a me piace. Sì, anch'io amo le cose un po' lunghezzine. Comunque devo dire che indosso la 44 di questo, non perché sono aumentata, ma perché comunque hanno ridotto un po' la vestibilità. Sì, però dai, se a volte il tessuto fa questi scherzi. Quindi, attenzione, non mi darò la misura in me, comunque è bellissimo, guardate qui il tire, ed è molto bella la lunghezza di questa giacca. Hai altro da mettersi? Sì? Assolutamente sì, ti lascio da sola. Dai, mi raccomando. Eh sì, mi è venuto un certo non so che perché non ero preparata a questa cosa e soprattutto mi spiace che mi stavo per dimenticare di questa cosa. Ma lei è qui, quindi. Troppo importante. Io ragazze, intanto che la nostra Antonellina, togliamo questi perché non c'entrano più niente con i nostri braccialini a 5 euro, ragazze li potete fare. Adesso poi arriveranno, cioè considerate che siamo tornate da due giorni e abbiamo già il negozio super 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 allestito. Quindi, arriveranno gli accessori, arriverà tutto quanto, piano piano, piano piano. Quella che ho indossato prima, Simona, l'ho fatto senza poi spiegarvi che sono comunque nuovi arrivi a 20 euro e sono stupendi. Mi piace molto, molto, molto questo abbinamento. Ciao ragazze, voi prendete, scusate, questi calzoni, queste giacche, questi toffa. Che siano tocche se non camicia. Potete decidere di cambiarli tutti i giorni. Arrivate a casa alla sera, dite, ah è stata un po' una giornata, sai, caldo, freddo, ok. Prendi i tre capi, cinque con l'intimo. Quattro se usate il body, li mettete in lavatrice, li mettete sulla grutta. Allora, volendoli potreste rimettere. Siamo gemelline, sì, questo è la camicia che indossava Simona con lo stesso tailleur. Vedete, in realtà può piacere di più il contrasto, può piacere la camicia. Bello il senap, è bello il beige, bello i colori che ci sono perché qui potete metterla anche col tailleur burro che c'è il calzone e la giacca con il cappuccio beige. Se c'è qualcosa che le nostre amiche... La casacca di Antonella, quanto costava? Oh, caldissimo. È come questa. Andiamo a vederla, la prendiamo qui perché c'è bianca e c'è blu, vi faccio vedere anche che è blu. 79 euro, quindi le fantasie e soprattutto per la, diciamo, lunghezza, per l'ampiezza, per la lavorazione, vedete, sulla manica, 79 euro. Molto bella, portata anche col calzone, coccio. Ecco, l'altro colore bianca, che poi le indosserò, e un blu molto 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 bello. Cosa stai facendo? Ho un messaggio richiesta. Eh, io sto scrivendo. Ah, no, io sa che... Ah, scusami, no, pensavo io. Ho un messaggio richiesta che ho visto che tu non l'hai letta. Eh no, amore, non vedo. Ma per l'anto però. Ah. Vorrebbe sapere da Antonella se i pantaloni del tailleur sono tutti a sigaretta oppure se ci saranno anche a palazzo o zampetta. Zampetta in arrivo. Ecco, brava. Io non vedo, dove ce l'hai tu? Questa non la so. Io non la vedo. Allora, al momento abbiamo il zampetta nella variante grigia che forse avremo a vedere dopo indossata. E Antonellina bisogna darsi una sveltita perché vedo che abbiamo ancora tanti capi. Sì, faccio fatica tanta. E sono quasi le 15, quindi dobbiamo... Manca ancora 25? 25 alle 3? Sì, sì, dai. È tempo? Allora, la retta ce l'abbiamo tutta. L'abbè, se nemmeno la marcia all'inizio ci siamo un po' perse, dai. Questo è il verde bosco con questo lilla che è quella smaricata come la tua. Sì, che però ha la spalla più larga. La spalla, esatto. Se vi ricordate il nostro top era proprio a spallina. Che li abbiamo in fondo scontati a 30 euro, ragazze. Questo proprio scende, vi copre un po' la spalla. È il famoso top settembrino che noi utilizziamo sempre. Che costa 59 euro. Esatto. Questo qua è il lamè e costa come l'altro che comunque è in fantasia. E' il rombo anche. E' 59 euro. Stavo dicendo solo alle ragazze che di zampetta ci sono questi con il rombo. Sì, poi credo che sia in arrivo anche quello in crepe. Ah, ecco. Adesso non mi garantisco che ci siano proprio tutti i colori perché il panno ad esempio c'era poco tessuto, quindi non mi ricordo se c'è la tagliata del panno o dello zampetta. Comunque sarà fra una settimana, quindi poi ti aggiungo. Sì, vabbè ragazze, diciamo in due giorni adesso bisogna avere pazienza. Sì, è già rientrata diversa. E' il colore di tendenza, il verde bosco. Ah, bella questa con la calzatura così. Sì, sì, un attimino. Ragazze io vado a cambiarmi così poi lascio più spazio. I pantaloni sempre 59 giusto? E' 99 la giacca. E' la giacca. E' 99. Sono un pochino fasciate, tu hai sulla 42. 42, sì. Io però, ecco esatto, io ho anche la gambettina magra per cui voi ditelo, segnalatelo che loro vi danno la taglia in giù tranquillamente. Lo sappiamo, ci rivolgiamo noi da soli. Va bene? Vado a cambiarmi ragazzi. Ricordate che anch'io come lei ho un 93-94 di sì, non siamo fatte diversamente ma più o meno con le stesse misure. Ecco, adesso poi quando arrivo spiego questa cosa, giusto? Sì. Perché la diversità di come si è con le stesse misure. Esatto, perché io e lei, guardate, avremmo forse, non so, un giorno ci siamo misurate, Gabri, non mi ricordo. Io ho un 93-94, 79-80 e 98-99 di fianco. Ecco, siamo proprio lì. Siamo lì ma siamo fatte diverse. Esatto, però diverse perché lei ha la gamba più muscolosa, io la gamba più asciutta. Però ecco, questo non è un problema. Voi con le vostre misure le passate alle ragazze che loro vi seguono e vi indirizzano sul capo giusto, indossato perfettamente su di voi. Ritorniamo alla nostra giacca, ve la stiamo facendo vedere in tutti i colori perché ce n'è uno più bello dell'altro. È sfoderata, spalline, e appunto è la nuova tendenza, questo Revere un po' arrotondato. Due bottoni, molto facile, molto anche da portare, da spezzare con un jeans, con un altro pantalone in un altro colore. Cioè, come avete visto prima, la Gabri ha fatto l'abbinamento invece con l'altra giacca in crepe ma con sotto il bengalina. Cioè, potete giocare un po' con i tessuti e con i colori come più vi piace. E lo sapete perché questo è anche il modo di divertirsi con la moda e di piacersi con la moda. È importantissimo come voi vi alzate il mattino e andate a vestirvi. Perché ogni mattina, sappiamo, noi donne abbiamo un umore diverso. Quello che dico sempre io. Sì, sì, Gab, è vero. È vero, è vero, no. Io ho l'armadio pieno e non tutti i giorni ti recco le persone. Un giorno ti aggrada di più il colore, il giorno dopo sei total black. Ti aggrada. Ti aggrada. Total black proprio. E quindi seguiamo un po' i nostri desideri. E guardate il Laguna, che meraviglia. Bello, eh. Ti rivelo che indosso anche una 42. Però ti sta proprio molto assoluta. Però, ripeto, a me ragazze piace il pantalone. È morbido, sì. Leggermente più normale. Poi io lo sento uguale. Sì, non va a fastidio. Però, ecco, dipende da come lo volete portare. Sono indossata un taglio del 42. Quindi, insomma, poi magari, avendo anche un po' di medicina in corpo, posso essere magari anche più gonfio. Ma c'è anche più elegante, più maglia di noi, che vuole questo pantalone. Quello che diciamo, indossare le stesse taglie, avere le stesse misure, ma essere fatte diverse. Quindi, quando io vi dico sempre, è importante la misura, è importante sapere l'altezza, è importante sapere un po' tutto, ma anche i gusti delle clienti. Gabby, mandami pure il pantalone più stretto, perché io lo metto inciucciato. Gabby, mandami il pantalone più morbido, perché lo voglio morbido. E questa è la differenza, capite? Questi sono i segnali che ci dovete mandare. Adesso io tolgo la giacca, vi faccio vedere la camicia, la stessa, che indossava prima. E ti lascio, vado a cambiare. Sì, perfetto. In fondo è fatta con l'elastico, quindi vedete quanto è bella. Anche questa qui, devo dire che io sotto indosso il body. È bella, è pratica. Vediamo il prezzo, perché non lo ricordo, secondo me, quella in unito costa 10 euro o meno. In effetti 69 euro. E che dire, è molto bella la lunghezza. Io la porterei così, senza nulla, senza cintura, senza cose particolari, senza costrizioni particolari, perché mi piace così. Ma le nostre amiche ci stanno chiedendo qualcosa. Per adesso no. Sono tutte silenziosi, sono tutte... Lui faccia qualcosa, te lo dico. Bene, perfetto. Potrei far vedere nel nostro secondo fornitore questo abito, che ragazze io l'ho indossato questa mattina. È bellissimo. Dietro ha l'elastico, quindi veste molto bene. È una fantasia stupenda. La lunghezza è meravigliosa. È il tessuto delle nostre camicie. Prezzo ultra stupendo e meraviglioso. Da 85 a 69 euro. Anche questo, manichina morbidina. Bello con questo scollo. Vi devo dire, in questa mussola... Ehi là! Ma sta eccedendo adesso! Aiuto! Insomma, la nostra signora, ragazze... Magna di protagonismo questa. Ma, ma... Allora, questo ti dico... Vieni! Mi piace. Devo andare al martesimo, a ottobre. Quindi... Mi faccio da anche quello facciamo. Bellissimo! Ha giudicato! Normalmente, a me fa che sia di una paperena. Eh, lo so, ma non sono mai abituata. Poi questi sono... Proprio quanto è vero. Considerando che dovresti mettere il body, mi permetto, il body farebbe così. Perché è così che farebbe il body. Anche Gianpietro farebbe così. È così che farebbe il body. Di conseguenza, con sotto quello, saresti il nostro dei top 40 euro di body. Allegarei la sesta, cosa ha detto? Faccio finta di non sentirla. Scollati lì. Scusate. Apri. Ecco, brava. Brava, brava, brava. Eh, sì, sai. Brava, 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 perché è così che va. E... Cioè, fai un giro su te stessa, indossa una al 54, ragazze 69 euro. Avevamo iniziato con il mio che aveva un 42, guardate, lei stai davvero bene. C'è una bella linea di abito. Ti piace? Eh, ma ti piace? Ma dopo li devi mettere, non è che li devi arrotolare nell'armadio e poi buttarli via. Cioè, li devi mettere. Vero, amica, che li deve mettere. Non solo per andare al matrimonio. No, perché questo è un abito. No, perché questo è un abito. Il battesimo. Il battesimo. È un abito. Ah, ma il battesimo della Ginni, dici? No, il battesimo della Iola. Ah, ah, lo sapete come dice. Non manco, non ti preoccupare, sabato mattina. Ma no, 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 no. Non lo dico già perché. No, pensavo forse... Era già lì che pensava. Pensavo forse... La Ginni faremo primavera. Bene, meglio, perché un pochino più grandina. Però ragazzi, 69 euro questo abito, cosa vogliamo dire? Te lo senti comodo, sì? Ma è vero. Poi non sembra che... Bella, eh? Non sembra nulla, svelisce tanto e... Lunghezza giusta. Lunghezza giusta, di poco. Fantastico. Dai, che abbiamo trovato il nome giusto. E qual è che non le sta a nuovare qualche altro colore? Vediamo. Vanno a leggere i messaggi, ma mia. La, vuole rivederla? Dopo ci salutiamo tutte. Dopo faccio così, vi riprendo io e vi vieni pure. Sì, ho cambiato solo la maglia. Questa è un nuovo modellino. E hai una 42. 42, ecco, si può stare anche io, avevo messo la 44. No, no, ma ci stai nella 42, perché vedi che bella comoda. Cioè, tagliata stondata, questo è fissato, vi fate il modello, lo lasciate cadere come volete. Prezzo, c'è la fantasia. Esatto. Se 59 euro sarà 59 euro. Esatto. Quindi, bianca, viola, nera, ma è strepitosa. Perché ha comunque l'incrocio magico, come quello dell'abito, fra l'altro, no? Perché alla fine lo utilizziamo spesso come tipo di scollo. Me lo dici a me. Dici a me. C'è un dettaglio, mi collo. Mi l'hai preso nella mamma, però. Non è che dalla casa. Eh, esatto. E gli scolli. Ma io se potessi, guarda, andrei in giro, in disabietta. Comunque, questa magliettina, che è carinissima, è jazz per le magliette. Io non lo so. Io ho inbossato una misura in più per farla vedere, ma perché avevo preparato la... Però ci sembra, sta bene che la quattro, questa è la fantasia. Però ragazzi, questi scolli, dai, per favore, cioè, io di cose... Perché lei era così prima, no? Si è sciarpa. Ho detto, ci sta bene, però scrocialo. Cioè, scrociare vuol dire... Cincinina, ascoltami. Va bene. Non già, infatti, cincinina, facciamo male. Mostrare. C'è chi è più rispargata e lo genere un po' più alto. Lo faccio anch'io. Quindi non chiedete... Sì, lo sembri tu, però. Ecco, non chiedetemi un puntino. Ti aggiungo un pezzettino bianco, sei perfetto. Non chiedetemi un puntino. No, sta bene. No, a parte gli scherzi, dai. Non è che io vorrei mettere chissà che cosa in mostra, però, insomma, questi completi, però, ragazzi. È bellissimo questo colore. Dai, per favore. Anche il fucsia. Eh? Dopo poi facciamo vedere. Dobbiamo dire alla nostra amica perché non stiamo vedendo, scherzando e via dicendo. Ma scrivete su un tzappo. Tu stai qui perché ti piace stascia adesso? Sì, no, perché voglio che vede qualche la rossa. Ah, ok. Allora dai che vado io un attimo. Pazienza queste donne. Rossa, vai dalla tua amica. Ma che bella sei, tatina. Stai bene, Simo, sei una gnocca con il vestito. Le modelle sono una più bella dell'altra. Complimenti a tutte. Perché non leggi, Kate, scusami, che ci sono qui i commenti da leggere. Dai, Simo, alla grande. Brava, Simo. Le modelle sono una più bella dell'altra. Complimenti a questo vestito, questa camicia bianca che è vestibilità sul seno. Marina, la 54. Vesta è bene, io indossavo la 42, quindi ti andrà sicuramente super bene. Stessa misura, ma l'antonella più alta per cui risulta più magra. È vero, Eli, perché quando l'altezza, io lo dico sempre, fa bellezza. E tante volte porta bianche una taglia in più. Io vi dico sempre che ho le gambe tornite, e di conseguenza non è cosa che io abbia mai tenuto nascosto. Kate chiede se posso indossare il vestito color laguna. Credo di averlo già fatto. Sì, ha delle sfumature di marrone, Gioia. Quindi io andrei avanti, ma intanto riprendo le mie amiche. Avanti che non avete la branca, vuol dire che non l'ho visto. Perché non l'ho sentito questo messaggio. Sì, ma non importa, io le sto alzando tutte, sono tutti qui. Prezzo, casacca, antonella, le abbiamo detti più o meno tutti. Comunque, amori miei, guardate, fate una cosa. Scrivete su Whatsapp, se vi può interessare qualcosa, chiedete su Whatsapp. Voi due siete delle strafi. Potreste, secondo me, prepararvi a andare a fare due salti questa sera, perché siete proprio... Girate su voi stesse e poi... Dai, questo è il ballo d'Itcoco. Sì, sì, bene, 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 ragazze. Chi torna qui? Che così torno lì? Ciao Vupa. Io vado a cambiarmi. Ciao. Basta. Ciao, 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 ciao. Perché ho usato il telefono così, non lo so. Questa cosa che volete vedere è questo tubino meraviglioso. E' un tubetto del nostro secondo fornitore, scontato da 99,90 euro a 79 euro. I colori sono deliziosi, inutile dirvi che se prendete la giacca che vi ho fatto vedere prima. Questa è la dimostrazione che quando prendete degli articoli, qualora aveste qualcosa nell'armadio, o qualora voleste fare un po' e un po' e un po', vedete che sembrano nati praticamente insieme. Ok? Quindi potete davvero, 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 che bella la nostra anco, davvero fare quello che volete. Ragazzi abbiamo ancora un abito stupendo in jersey a 30 euro. Cioè sapete che quando poi le cose stanno per finire, cioè 30 euro questo abito, e indossati sono come tutti quelli che stiamo facendo vedere ora. Chiedete su WhatsApp e vi daremo risposta. Altro colore, guardate quanti ne abbiamo fatti. Meraviglioso. Ho ingossato dei sneaker per far vedere che si può portare anche in maniera un po' sportiva, uno sporty chic se volete. Questa è la stessa maglia che indossava la Gabri, nella fantasia, col col colore chiclamini, che sta da Dio abbinata a questo tagliore, che è l'altro colore del tagliore, giacca lunga. Ma abbiamo anche la giacca con cappuccio, anzi Cate se mi segui, quasi faccio vedere il pantalone. In questo caso riusciamo, non c'è la mia taglia, metto una 40, ma è uguale. Bella la genita. Hai visto come sta bene? Io lo adoro portato così. Molto, molto. Forse perché ho qualche problema con il tacco. Scusate che ve la faccio, ve la indosso. E così valutate anche, visto che questa giacca è un attimino più sportiva, potete fare il completo anche con questa. Ok? Che questa comunque è una giacca cardigan, come vi abbiamo detto più di una volta. È praticissima, anche per quest'inverno da interni andate in ufficio e volete restare comunque un attimino comode, ma con qualcosa di diverso, di un po' elegantino. Questa è la giacca giusta, senza bottone, praticissima. Io adesso ho la 40, la 42 mi scenderebbe un attimo di più e quindi mi sarebbe più morbida. Che dici Cate? Bellissima, anche stamattina l'ho provata. Quello che così vero, con la sneaker è subito portato anche in questo modo. Quindi immaginatevi anche tutti gli altri colori portati in maniera più sovra, più sportiva, piuttosto che con la scarpa col tacco. Noi tendenzialmente, chiaro, le facciamo vedere un attimino più elegantini, ma guardate che lo portate tranquillamente anche così. Anzi, lei ve lo può confermare, un attimo di fiatone perché fa caldo qui dentro, che io e lavoro sono sempre così, giusto Gabri? Sì, sì. Se è così, adesso voglio prendere anche qualcos'altro. Vado a prenderti il gilet e faccio vedere. Io ragazzi intanto ho fatto il coccato, tutto al black, giusto per farvi vedere sempre la stessa maglia a 59 euro, il calzone nero per dire che, insomma, il nero, colore o non colore. Sì, è sempre andorabile. Prova di farlo. Resta chic, una bella collana, l'avete schiarito, un accessorio, una borsa, una scarpa diversa, il nero resta sempre facile, tanto facile. Che qui alto abbiamo una 44, ti va sicuramente bene. Lo indossavo quando sei venuta. Lo indossi sopra o sotto? Dove vuoi? No, no, proviamo sopra. Quindi, siccome lo indossavi nel video giudaccio, nel video dell'altro giorno, per far vedere che qualsiasi cosa o chi non ce l'ha, costa solo 39 euro ad oggi. Tesorino, queste sono le tue tratture. Le ultime taglie. 39 euro al gilet. Le ultime taglie. Vedete cosa si può fare? Lo posso prendere anche io e mettere, per dire, Sopra il nero. Sopra il nero, ovvio. E farvi vedere che questo gilet ha 39 euro, perché ragazze siamo pieni ancora di cose scontate. Adesso sta arrivando la nostra doni. Ciao doni. È l'ora di fare. Cappellino e siete pronte? Cappellino, che a me piace, senza occhiali quando metto il cappello. Però per dire, vedete ragazze, cosa si può fare con le maglie nuove, con i pantaloni nuovi. 59 euro, 59 euro, 69 euro, 59 euro, 79 euro. Ormai ho già imparato i prezzi. Poi chi non se ne ricorda, basta scrivere su WhatsApp e noi. Sta bene anche te, tesorino. Quindi, amori miei, scrivete su WhatsApp. Si sta bene anche così, potrei quasi anche, faccio un giro di qui, faccio vedere i colori. Faccio ancora un cambio, ce la facciamo? Fai ancora un cambio, mettiti il burro. Sì. Mettiti il burro con il maculato, così abbiamo modo di farlo vedere. Il maculato bellissimo, che avevamo anche, avevi un po' di tessuto in casa e l'hai fatto bellissimo. Sì, l'ho utilizzato perché questo modello si prestava. Bellissimo perché, devo dire, tante ce l'hanno chiesto. La maglia che indossavamo prima, l'antonellina, ovviamente l'abbiamo anche nera. Vedete che è quell'urex, un po' cangiante, non è argento, non è oro, ma è luminoso, sembra quasi pelle, visto così, è molto 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 bello. Quindi, 59 euro, bellissimo il bronzo. Ragazzi, è stupendo, stupendissimo il bronzo. Aveva preparato Anto, ma non so se riesce adesso a metterla sotto il completo burro perché abbiamo optato forse per il maculato, quindi la vedete qui. È molto molto bella la maculina che qualcuno di voi ha già acquistato ancora prima che chiudessimo, ma è proprio carina, carina, portata col nero. Vedete anche questa, per dire, poi ci mettiamo la giacca nera sopra. Quella col cappuccio ce l'abbiamo anche nel nero. Ricordatevi, e lo ripeto ragazzi, tutto dalla 40 alla 54, quindi si possono fare anche abbinamenti così, vedete, tutto nero con la casacca in questa maniera. C'è la possibilità, io dico che se prendete, fate un abbinamento, dopodiché girato con una cosa, girato con quell'altra, girato ancora con quell'altra, guardate qui resta l'ultimo abito nero, taglia 42 a 30 euro, sempre in crepe e poi se volete ci girate sopra le giacche che vi stiamo facendo vedere adesso, sono una 42 ragazze, dimmi Cate. Maria chiede, Cate mi fai vedere il colore rosa o il colore carne della giacca con il cappuccio, grazie. Devo dirvi che la stiamo vendendo molto, ma molto, ma molto, ma molto bene, molto bene, adesso tolgo il gire, lo lasciamo qui. Tutti i ciliei lo abbiamo azzurro, lo abbiamo arancio, lo abbiamo verde, sono gli ultimi a 39 euro. La giacca rosa è stupenda, adesso ve la indosso anche, visto che sono vestita tutta in nero, devo dire che il colore, che vedo che di là ha partato per le spedizioni, è il più, diciamo, in auge. Bellissimo, e vi dirò di più, chi di voi ha acquistato la camicia, potrebbe andare bene anche questa, e sono le ultime 42 e 44, quelle con, vedete, la coda dietro, scontate a 39 euro. E questa è una crepe, la portate adesso e in futuro senza nessun problema, mettendo cardigan, mettendo giacche, mettendo quelle che vedete, scontate a 39 euro. Questa, 79 euro. Dicevo, chi di voi avesse acquistato la camicia, quella con la coda, questa? Ragazzi, ne abbiamo ancora due, le ho chiesto a Dale. Due taglie 42 di questa? Eh, esattamente. O l'incrocio, quello con la coda qui? Chi di voi ha preso quei due capi? Sono esattamente uguali a questo rosa. Ma non c'è una virgola di differenza, non una virgola. Stiamo sudando, vero? Sì, sì. Uh, che bella sei! Bello il panno. Mamma, bello, bello, bello. Sempre bello il panno. Qui mi sa che dovete ritrovare il tessuto. Sì, poi riapre il fornitore e lo ricediamo. Primo sempre perché questi colori chiari, da adesso fino a dicembre, noi li vediamo. Sì, sì, ma lo ritroveremo, state tranquille che sicuramente... Avete visto che la taschina è piccola, ma è piccola per scelta? È piccola, è storta, è sopra. Certo, è applicata in maniera diversa perché per la grandezza del davanti di questa giacca fare il tascone diventava troppo impegnativo e quindi abbiamo optato per una taschina più piccola che comunque è pratica e fa la sua bella figura. Il cappuccio è proprio un dettaglio, quello che fa... Sì, è proprio un micro cappuccio, come vi ho spiegato, guardate. Sì, sì. Lui è cortino, è carino, però è proprio un collo. Per non dar fastidio anche su questa giacca. Diciamolo chiaramente. E devo, stavo dicendo alla nostra amica che... Guardate, la pieda. Lo sfondo di... Sì, sì, si vede bene anche. Abbiamo appartato tanto di questo colore. Sì. Sta piacendo tanto, quindi poi ci valuteremo un po'. Adesso, ragazze, è un esplà, è un inizio. È solo l'inizio. È solo l'inizio. Qui abbiamo ancora due camicie scontate a 30 euro che le facciamo vedere, ma ragazze, cosa vogliamo dire? Cioè, è una 48 e una 44. È il nostro magico tessuto. Magico tessuto, quello da grattini, come dicevo prima. Morvidissimo. Cioè, velour, come lo possiamo definire questo? Ma... Mano pesca. Mano pesca è una... Come posso dirti? È un trattamento saponato che fanno al tessuto. Ecco, vedi, lei ha i suoi termini giusti. Sì, un trattamento saponato. È quello che dà questa mano pesca. Questa mano morbida, non spinosa, non fastidiosa. Ragazze, io più vedo una cosa. Abbiamo ancora una giacca col pizzo. Vedi che questo beige è diverso. Questo ha avuto un beige rosato. Quello è più burro, più luminoso. Ma ragazze, pensa che questo pizzo sarebbe stato bene, guarda. Volendo, sì, si potrebbe abbinare. Sì, sì. Anzi, diventa ancora picciaro. Sai cosa potremmo fare? Abbinato il burro diventa picciaro. Un ginocollo, un copritutto. Credo di rire ancora il pizzo. Credo di rire ancora il pizzo. Bene, inventeremo qualcosa. Ragazze, intanto questa giacca, l'ultimo pezzo scontata, ha 129 euro. Ora 49 euro ed è una 44, 46 euro. Io farei così. Saluterei le nostre amiche, anche se non sono completamente vestita. Ma va bene, posso... Avevamo altri cambi, ma li faremo un'altra volta. Avevamo altri cambi che ora abbiamo fatto perché vedo che c'è... Sono le tre? Ecco, dai, siamo abbastanza. Abbiamo Cristina che chiede, i pantaloni dei completi ci sono solo a sigaretta? Dovrebbe arrivare anche un altro modellino. Questa settimana vi aggiorniamo. E Donatella scrive, avete deciso di cambiare un po' i bottoni delle giacce? Sì, che... Nel senso che non c'è l'oro, ma c'è il canno di fucile, intendi quello. Non c'è punto di domanda, non c'è nulla, quindi... No, allora, qui non c'è. No, sulla giacca, cappuccio, e l'altro. E tutto è che qui, oggi, che niente arosola, niente bottoni, guardate la serietà del nostro Made in Brescia, ha ridotto... Stavamo parlando tanto. Sì, sì, perché tutto fa, ragazze, la martingalina, il passantino, il bottoncino, tutti i dettagli sono quelli che incidono sul prezzo. Perché giustamente tu in diretta hai detto, sei rimasta stupita per il prezzo. Che viene questa giacca a 79 euro, il cappuccio mi ha detto che consuma doppio tessuto, e oggi mi ha detto, guarda ragazzi, potevamo lasciarla a 89 euro, 99 euro come le altre, però la nostra serietà arriva a questo livello. L'asola incide, il bottone incide. Il laboratorio incide, perché dipende anche da chi la fa, e quindi siamo riusciti a contenere di altri 10 euro. Capito 70 euro. E' come quando andavo nel laboratorio dei miei genitori. Guarda i bottoni, guarda le zii qua, gli elastici. Che altezza hai questo? Che c'era, eh sì, perché mi servono per allargare le gonne alle nostre amiche, capisci? Certo. Cioè è come un po' tornare quel banco che voi avete lì al taglio. E' un po' tornare, io lì sotto, mio papà lo aveva più alto, perché essendo salta... E' una brava, la volta prossima ti metti sotto. Mi lascia andare. Tanto mi dicono che devo tornare un po' bambina. Bene, mi dicono che devo tirare fuori la bambina che hai in me. Sì? Sì, sì, continuino a dirmelo. Ci aiuterò, faremo le bambine. Ci mettiamo la... Al prossimo giro, ragazzi, gli facciamo un film. Guarda che l'ho appena venuto. Ci mettiamo la sotto. Io lo facevo. Mi papà aveva un banco, ti stavo dicendo, da sarto, da uomo, quindi gli arrivava qui. Più alto. Lui stava sempre in piedi e si usava a fare tutto a mano, all'epoca. Il feltro, tutte le imbottiture, quello che usavano per la spalla, no? Quindi tu lo sentivi che col suo ferro sopra faceva pum pum pum, quei ferri di una volta, sapete, quelli di ferro. Ecco, credo che andasse a corrente, ma c'erano anche quelli ancora alla braccia. Dimmi te, dimmi te, ragazze, dimmi te. Sì, sì, anche mi mamma ha dei bracci. E io lì sotto sentivo l'odore, poi lo bagnava così con l'acqua, con le mani per sfumarlo, quindi faceva il vapore e creava il tessuto di lana, perché bisogna dire che c'era tanta lana all'epoca. E io sentivo, ecco, vedi, questi sono ricordi che mi aiutano se riaffiorano. Guardate cosa stavo dicendo, quel basco nel tuo è un pochino più basso. Ma cosa interesserà alle nostre clienti? Non lo sappiamo. Però, non lo so. Però tornando ai botoni... Possiamo lento e la rivedremo bambina. Ecco, col ciccio in bocca. Io vi dico che quando arrivo là, non so cosa intendeva la nostra cliente, sono diversi, ma perché una volta si fa il dorato, una volta si fa il bronzo, una volta si fa il caldo. Secondo me era come più, finalmente abbiamo cambiato colore, c'era oro e argento e adesso c'è canna di fucile, letto così. Specifico anche una cosa, che a volte è di nostra scelta, cambiare il colore. A volte, se siamo di corsa a Gabri, dobbiamo prendere qualche c'è, perché altrimenti la galvanica ci fa aspettare troppo e uscirebbe troppo tardi magari un completo. Per cui noi di solito ci facciamo delle scorte in casa. Capita raramente che dobbiamo un po' adeguarci. Vedi che una volta c'è l'ora, una volta c'è canna di fucile, letto in tinta. Allora, le nostre amiche, a cosa dobbiamo dire? Quelle che magari sono arrivate nuove e non lo sanno, che è abbastanza che ci facciano le richieste, dove trovano un negozio, un'attività, dove dicono sì, a me piace questo, io so ad esempio che la mia tiziana vuole solo questi colori, un'altra vuole solo l'oro. E mi dice, io prendo questo, però mi metti i bottoni dorati, mi mandi i bottoni dorati, bene, io allora vengo giù da te e ti dico mi dai quattro bottoni dorati che alla cliente lo mandiamo. Sacchettino. Rendete conto, poi quando vediamo su con il vostro capo, con il vostro nome, ok, e lì mettiamo anche sacchettino quei bottoni. Quindi, questo è per dire che siamo davvero una grande famiglia. Questo è quello che alla fine di tutto questo divertimento di oggi, che ci siamo anche divertite, speriamo di non aver esagerato, però è tutta naturalezza. Adesso ti lascio perché vedo che cate sta la... Quella con il cappuccio a tasca è vera, mentre invece questa è a tasca che mi chiedeva Carmen. Allora, questa qua? No. Ecco, perché io ho risposto per quella panna. È applicata, la vedete, la riconoscete subito. È solo impunturata, esatto, noi la chiamiamo aletta, però si vede che all'interno non c'è niente, mentre questa è proprio applicata. Anche perché in questo caso peserebbe all'interno. Un pochino sì. Mentre invece questa, essendo ovviamente che all'interno è bello piatto, pulito, pulitissimo. Io amo questo tessuto, ragazze, come vi devo dire, perché è bello, bello, bello. È pratico, è bello. È pratico, è pratico. Indossa bene. Indossa bene, calciavettura, si è messo una quattro di questa, mi sembra di sì, perché stava dentro sì, quarantaquattro. Esatto. E secondo me questa giacca... Sì, è da portare un attimino, quindi, ecco, se vi piace un po' più morbida, taglia anch'io. Nessun problema. Esatto, quindi anche lì ditelo, mi piace più sbragata, mi piace più sbragata, mi piace più sbragata, e noi vi aiuteremo, Antonellina, noi qui. Che ci salutiamo. È stato un piacere grande, grande. Lei adesso torna alla sua produzione su Italia, a inventarsi i modelli, a fare tutto quello che deve fare, a seguire magari anche i nostri consigli quando possiamo, e loro sono sempre molto, molto, molto attenti alle nostre esigenze. Che dire, a voi, amiche mie, un bene dell'anima. Speriamo di avervi fatto cosa gradita. Direi proprio. E dalle 11 che sei qui abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Sono quattro orette di impegno. Spero che abbia dato i suoi frutti, cosa dite ragazze. Quindi, magari al prossimo giro vi faccio degli outfit sullo stand, vi inserirò a prendere le misure, circonferenza seno, circonferenza vita, circonferenza fianco. Ok? Intanto vi salutiamo e andiamo a lavorare. Un abbraccio a tutte voi. Se è qualcosa che vuoi aggiungere, ho prevaricato, non mi sembra. Un cicciolina mia. È stata bravissima. Allora, parliamoci così. No, perché insomma, sei sempre abituata a fare il video da sola, che alla fine ti sembra che, per le nozioni, diciamo, tecniche, sei una manna, ci vogliono, perché le nostre amiche capiscono. È interessante. Capiscono tutto quello che c'è dietro. Puff! Ma però! C'è già zoppa. Ecco brava. Aiuto. C'è già zoppa. Siete con me la Marsi, ciao. Eh, vabbè, anch'io. È finita la collaborazione. Devo stare attenta perché mi vai dietro. Ciao ragazzi. Vi voglio bene, Anto. Vi voglio bene, amiche mie. Ciao. Ciao. E un bacione grande. Ciao, gioia. E un bacione grande a tutte. Ciao.